Ciao a tutti, io sono Adanai, bentornati al mio canale. Oggi, essendo giovedì, andiamo avanti con l'extra The Sims, e quindi con Arrival. Oggi siamo al terzo step, qui avevo iniziato, ho preso un segreto, mannaggia, non lo volevo prendere. Comunque, la volta scorsa avevamo finito il mare, e oggi andiamo da Palude di Bacche. E' abbastanza difficilotto questo, come il livello, però spero di non morire troppe volte in quel caso, taglierò per non annoiarvi. E qui vediamo che praticamente questi bambini che tengono in mano un filo rosso, notarlo, vanno a cercare probabilmente le bacche. Eccoci qua in questo magico mondo, Palude di Bacche. Come al solito, vabbè, io lo dico sempre, ma però veramente questa scenografia è magnifica. Volevo vedere se c'era qualcos'altro lì qua. Ci si attacca? Sì. Proviamo a fare oscillarsi un attimo. No, ok. Andiamo su. Lega. Andiamo su, su, su. Lega. Forse non importava che legassi lì, sapete, ormai però, ho legato. Andiamo. Lega, sperando che ci faccia da ponte, sì. Leghiamo. Ok. Teniamo la S, dondoliamoci. E andiamo qua. E leghiamoci. Farà da ponte? Sì. E là c'era un segreto, che onestamente sì, avevo visto la volta scorsa. Leghiamoci. E adesso magari... Vediamo se lo prendo oscillando. Oh, ops, scusa. Ok. Direi che possiamo risalire. Sciogliamo anche il nodo. Oella. Bel volo facciamo quando sciogliamo i nodi, eh. Però non vorrei sprecare tutto questo filo. Olè. Io tengo premuta la S per tenermi sempre alla corda. Altrimenti ci sfatasciamo al suolo e non è bello. Vedete, io tengo la S. Così sciolgo tutto. Senza grossi rischi. Questo però forse ci serve, sapete. Quindi forse qui... Non ci faceva scomodo. Vediamo se basta oscillarsi. Sì. E continuiamo a oscillarsi. Ok, ce l'abbiamo fatta. O magari non affogavamo, eh. Però io nel dubbio, sapete. C'era quello. Ma questa cosa serviva a qualcosa? Ho detto, ho guardato molto velocemente, giusto per non tenervi d'ora e mezzo. Ma mi sa che non porta a niente. No, non credo porti a niente. Andiamo giù. E andiamo avanti. E qui abbiamo trovato un punto di salvataggio. Ok. Allora, qui sono diventata matta onestamente la volta scorsa. Spero di non diventare completamente pazza come l'ultima volta. Orca miseria. Aia. Piccolo, scusa. L'ho fatto cadere addosso. Allora, neanche me lo ricordo, se devo essere proprio onesta. Mi sembra che andasse regato questo. No, no, no. Qua, torna su. Ok. Poi, dobbiamo tirare giù questo, legare. Lega. Ah, torna su, torna su, lega qui. No, ho fatto un macello dell'ottocento. Tra l'altro qui, non importa. No, allora, ok, aspetta. Facciamolo. Spuostati, ti prego. Non ti svuoti più. Va bene, allora. Se io lo tiro. No, non devi legare lì, non devi legare lì. Devi legare qui. Devi legare qui. Cioè, ragazzi, è una... È una cosa abbastanza complicata questa. Torniamo su, mannaggia. Sciogli, sciogli il nodo. Fallo riandare giù, per l'amor di Dio, qui stiamo per morire. Tutti, cioè tutti. Il nostro amichetto di filo rosso. Riprendiamocelo e riportiamolo più qua. Allora, facciamo così. Leghiamo subito qui. Non mi ricordo se andava bene, però ci proviamo perché onestamente se noi non so come fare. Lega veloce, 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 veloce. Ah, lega, lega. Oh, ci siamo. Fermi, fermi. Ci sono, ci sono, ci sono. Sciogli il nodo. Sciogli il nodo. Sciogli il nodo, amore. Sciogli il nodo. Ok. Siamo arrivati dalla parte di qua. Con qualche girigogolo. E qui... Allora, vediamo. Forse ci serve ancora sto tronco, non mi ricordo. Sì, mi sembra di sì. Sì, prendiamolo. Tiriamolo. E poi lo spingiamo. Sì, esatto, ci serviva. Scendiamo giù con calma. Questo secondo me ci può servire. Fa un ponte, sì. Ok, allora, spingiamocelo con noi. E non mi ricordo... Ah, forse per passare da un punto dell'acqua. Le lucertole... Loro non ci mangiano, no. Meno male, sono meno cattive dei... Oddio, oddio. Ok. L'ansia con quest'acqua, ragazzi. Non è finita. Ah, lì c'era un segreto. Ve lo faccio vedere qua. Qui non feci a meno... Non ho potuto far a meno di prenderlo perché... Ahimè. Sono caduta e non mi ero resa conto di... Allora. Qua ci sono, come possiamo notare, queste... Meravigliose zanzare. Ok. Che cacciamole perché ci rallentano tantissimo. E abbiamo trovato il primo ricordo. Vedete, queste zanzare vengono qui... E ci rallentano pure. No, secondo me ci serve anche di qua. Prendiamolo. E queste malefiche zanzare. Via, via, via. Mmm, mi sa che ci serve ancora. Olle. Maremmaladra. Zanzaracce malefiche. Cavolo dovevo... Già, giusto, dovevo saltare. Me ne sono dimenticata. Ok, prima morte. E uno. No, ma ora senza... Ah, è qui. Allora, ricordiamoci di stare pronte a saltare. Via, salta. Ma andiamoci via, queste zanzare. Malefiche. Perché vedete, ci rallenta proprio. Altro filo. Dai, andatevene su. Lasciate stare reddi. Mi sa che qui. Mi sa che qui bisogna legarci. Ho questo sentore. Esatto. Divento un ponte. mannaccia. Manaccia. Ok, dovevo fare al contrario. Legarmi prima qua. Oh. Ce l'abbiamo fatta a pelo. Solo era come cappero. Ci torno a dire. Facendo il tarzan della situazione. Così. Dai, mi raccomando. Non facciamo spreco. perché come abbiamo notato il filo non è tantissimo. Oh mio Dio. Paura. Ok, leghiamoci. E andiamoci pianino. Oddio. A dire che, ragazzi, non mi ricordo minimamente. qui come si doveva fare. Ok, in lega. In lega qua. Vediamo se... Bella la mia memoria. Ok, però, dai. In qualche modo me ne sono ricordata. qui c'era l'altro segreto, che ora devo capire un secondo come prenderlo. Oh, questi ci... ci schiacciano. Se no, stiamo attenti. andate giù. Ok, proviamo ad andare a prendere sto segreto. ma io non riesco a prenderlo. Oh, ho preso. Che gioia. Queste sì che sono soddisfazioni. Allora, per andare l'acqua c'è questo osor lucica. ok. Ok. Infatti, mi sembrava di ricordarmi. Di qua non si passava, se non mi sbaglio, no? Infatti. Ok, era così, allora. Oddio. Torna su. Oscillando, oscillando, dobbiamo arrivare là. Oh, via. E scendiamo. Ah. Malefiche zanzare. Oddio, qui affonda. No, 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 no. Morta, ragazzi, morta. Allora. Andiamo più veloce possibile. Ok, ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati di qua. Madonna, le zanzare. Cacciamole un po' perché ora sono veramente troppe e ci rallenta tantissimo. No. Dai. Saltella. Ecco, qui io mi ero un po' un pochino impelagata nel senso che non riuscivo ad andare avanti. Ok, qua che c'è una pietra che non so nemmeno se ci serve questa pietra però noi ce la portiamo. Ah. Proviamo a portarcela. Magari ci fa comodo ste zanzare. Maledette. Basta, andatevene. No, guarda. Veramente, non riesco a fare niente con queste zanzare malefiche. andatevene via. Ce la facciamo a prenderlo, sto coso? No. No, torna su, torna su, torna su. Niente. Ciao. Ciao. Che poi magari neanche ci serve quella. Dai, su, sali. Che poi neanche ci serve magari sta pietra, io non lo so. Perché qui mi c'era un pochino impelagata. Allora, l'hai remessa a posto? Certo, ste pietre, ste zanzare sono una cosa veramente agghiacciante. No, via. Non riesco a prenderlo. No, non riesco a prenderlo. Allora, proviamo a fare così. Tiriamo, proviamo a vedere se tirandolo o no. Ci può bastare? Non lo so nemmeno se è questa la soluzione. Sì! Lega, 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 lega e andiamo là. neghiamo, forse ci serve per andare di là. Esatto, ok, da qui in poi ragazzi non l'ho fatto. Non so nemmeno io quel che ci aspetta. Quindi se mi vedrete andare un pochino più tentennante, ecco, sappiate che è per quello. Prima ci siamo andate vicino anche a prendere il segreto. Ho capito come fare, forse, sicuramente sembra quello il modo giusto. Quindi, riproviamo. Prima o poi, chi insiste, la vittoria, è di chi non molla. fin qui, va bene, possiamo andare anche abbastanza spediti ormai. Dai. Madonna delle zanzare. Basta, andatevene, ma avete veramente fatto venire un'ansia, ragazze? Ok. Portiamocelo giù. Allora, ce la facciamo? Oddio. No, vabbè ragazzi, però questo potevamo farlo un po' più impermeabile. Questo micitto. Oddio, ce l'abbiamo fatta. Il segreto è preso, se riesco vi va di qui, è già qualcosa. Allora, a questo punto ci deve fare un ponte perché non c'è verso, altrimenti... Allora, zanzare, veramente, poi sono fastidiose perché danno fastidio anche nel fare le cose. Uh! dai, sì, 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 olle. Allora, caliamoci giù con un po' di calma. ok, non ricordo maestro questa ragazzi. Qui c'è la zanzare. Eh, oddio, mi ha fatto paura l'alci, vi giuro. che bello! Però, per lì, mi sono un attimino spaventata perché non me l'aspettavo. ok, lì c'è anche un segreto ma qui come ci arrivo? Forse ci arriviamo dopo in qualche altra maniera. Prendiamoci il segreto. Bambini. Che bellezza, no? Vabbè ragazzi, ma questo gioco è fantastico. Allora, tiriamocelo con noi questa geccia. Sì, legatici perché io vorrei essere più tranquilla. Legatici al momento. Siamo finito il filo. Maledizione. No, allora aspetta non ti ci legare. E anche qui non ti legare. come faccio però? Perché da qui non va bene. Allora, aspetta, dobbiamo recuperare il filo. Ci stiamo intortando qua a noi. Forse l'ha tirato in quest'altro. a questo punto a me l'unica cosa che viene in mente è che nulla perché non può essere così perché il semplice fatto è che non ci basta il filo quindi non è questo il ramo giusto a qui attaccarsi. Spingilo più qua di nuovo e riproviamo perché no, ci deve essere il modo di prendere questo. sì, ma non prendere più questo coso, dai. Cioè, tra l'altro abbiamo rispinto di nuovo troppo in qua. Allora, con calma. Oh! Sì! Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Adesso in teoria ce la dovremmo fare. Tira il filo. Ok. Fantastico. Mi sa che ci riserve quella gecgino lì. Riprendiamo il nostro amico o il nostro balocco. c'è questo sentore. Non lo so, proviamo a vedere. Che ora ci potrebbe servire per andare di là. Esatto. Oh, altro filo. Siamo fortunati. Neghiamo. Vai. Oh, oh. ok, no. Sembra stabile. Proviamo a legare. Sì. Allora, vediamo. Oh, c'è un segreto là. Via. Andare a prenderlo subito. andiamo su, 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 su. C'è un altro filo qua. Da dai, ci sei, ci sei. prendiamo un altro filo. spero di star prendendo tutti i segreti di non averne lasciato nessuno perché a volte nel gioco mi potrebbero sfuggire. Se viene un altro alce mi fa avvenire un infarto, giuro. Davvero? No, bellissima sta cosa. No, no, no. Oh. Wow. Ci siamo fatti un ponte. Che bello. No, ragazzi, è meraviglioso. Ha una scenografia fantastica. Cioè, guardate le bacche. Quanto è bello. Oh, è finito il livello. Abbiamo trovato il nostro pennacchio. Cos'è? Una mosca. vediamo i ricordi che abbiamo trovato. Palude di bacche. riusciresti ad apprezzare veramente la bellezza e l'unicità delle cose se fossero troppo facili da ottenere? Se non fosse necessario nessuno sforzo? E io, come sempre, sbaglio la freccia. in tutti i luoghi che abbiamo visto le zanzare malefiche. I boschi. che bello. E questo è un altro livello. Andiamo un attimo a vedere se ho preso tutti i segreti e poi ci salutiamo. Sì, cinque di cinque ragazzi. Perfetto. Bene. E per oggi è tutto. Noi ci vediamo la prossima volta con un altro episodio di Arrival. Questo delizioso, adorabile, delicatissimo micetto di lana rossa. spero che vi sia piaciuto anche questo episodio. Se è così lasciatemi un like e un commento. Vi invito a iscrivervi al canale per essere aggiornati e noi ci vediamo alla prossima volta. Ciao!